L'autonomia differenziata è una riforma sbagliata che vuole spaccare in due il paese che invece ha bisogno di essere ricucito. Le diseguaglianze in questi anni tra crisi economica e finanziaria e pandemia, il ritorno delle guerre e la crisi energetica sono aumentate. L'autonomia differenziata fatta senza mettere un euro vuole aumentare quei divari e invece quei divari vanno ridotti perché quei divari li hanno pagati soprattutto le aree interne e il sud di questo paese. Lo ha detto Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico, oggi a Pieve e Santo Stefano per la festa dell'unità in occasione delle campagne delle state militante dedicate alle aree interne e all'autonomia differenziata. Quindi noi abbiamo avviato questa raccolta firme con tante altre forze di opposizione, forze politiche, sociali, associative e sindacali e siamo molto contenti che già in questa prima settimana di banchetti e di raccolta firme anche online perché finalmente abbiamo ottenuto di poter avere anche la piattaforma per firmare online, ci sono già le file insomma, ci sono già moltissime persone che vogliono dare un segnale, dare una mano e poi naturalmente convincere tantissime persone ad andare a votare per questo referendum per bloccare questo disegno scellerato che aumenta le diseguaglianze che invece abbiamo bisogno di ridurre. La segretaria Dem, che ha voluto anche visitare l'archivio diaristico nazionale, il piccolo museo del diario di Pieve e Santo Stefano, si è soffermata anche sulle passate elezioni amministrative e soprattutto sul campo largo. Le alleanze non si fanno in stanze chiuse tra gruppi dirigenti, si fanno se, come abbiamo fatto sui territori, mettiamo in fila le priorità che interessano agli italiani e su quelle ci impegniamo insieme, su quelle mescoliamo la nostra gente che ha voglia di darsi da fare e che in queste amministrative ha dimostrato già di sapere convincere le proprie comunità e di vincere le elezioni. Quindi naturalmente il nostro approccio rimane testardamente unitario, non perché ce lo chiede il medico, ma perché naturalmente ce lo chiede la nostra gente.